Questi sono i Triops Oh, diventeranno così grandi Praticamente sono tipo i cugini dei draghi marini Wow, ma dentro abbiamo tutto l'occorrente Questa è la loro vaschetta Guardate ragazzi, guardate come diventeranno grandi I Triops esistono dai tempi dei dinosauri Per prima cosa dobbiamo mettere la sappia nella vaschetta La 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 Ci sono anche i sassolini per decorare l'acquario Ne metteremo uno qua, uno qua, uno qua, uno qua e uno qua Ma adesso arriva la parte più bella di tutte Perché qua dentro ci sono le uova Questo è il cibo E qua dentro ci sono le uova Le istruzioni dicono che l'acqua la dobbiamo mettere con questa seringa qui In questo modo, piano piano, perché se no andiamo a rovinare la sabbia Ok, è arrivato il momento di mettere le uova Mi metterò un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua e un po' di qua E adesso incrociamo le dita Perché ci potrebbe valere anche una settimana per vedere i primi esempiari vivi Like per la parte 2 Do it!